Oggi parliamo del giardino giapponese. Lo vedremo insieme subito dopo la sigla. Il giardino giapponese nasce dall'arte del giardino cinese che entrata nel paese del sollevante viene rielaborata e sviluppata secondo forme e canoni originali. L'influenza cinese si manifesta in epoche remote con la geomanzia, secondo la quale gli oggetti ed in particolare le pietre possono influenzare l'energia di un luogo in base alla loro collocazione. Le pietre e la loro disposizione assumono così enorme importanza nel giardino giapponese, tanto che nasce la figura di monaci dediti unicamente all'arte di seguire il desiderio della pietra mentre la si pone. Dalla Cina proviene poi la concezione della sacralità della natura, che è abitata dai kami, presenze vive che si trovano in ogni cosa. Il giardino, incorniciando la natura, permette così di avvicinarsi alla fonte e alla meraviglia del mondo. C'è infine l'influenza del buddismo che fondendosi allo scintoismo locale fa del giardino un luogo simbolico, una forza spirituale ed un ausilio concreto alla contemplazione. Il monaco e creatore di giardini Muso Soseki arriva quindi ad affermare che chi distingue fra il giardino e la pratica buddista non ha trovato la vera via. Quindi il giardino giapponese non è mai progettato per acquisire una bellezza solo decorativa. La bellezza è sempre funzionale in senso spirituale. È fondamentale a questo riguardo il sentiero, che determina la maniera in cui il giardino viene sperimentato. Percorrere il sentiero è una pratica religiosa performativa, richiede umiltà e abbandono consapevole. Lo scopo è quello di elevarsi al di sopra dei pensieri ordinari avvicinandosi all'ideale buddista dell'oltre la mente. L'obiettivo è quindi quello di far nascere l'armonia fra uomo e ambiente, fra il sé e l'altro da sé. Con il buddismo zen, il giardino visto come strumento di elevazione spirituale, divene inaccessibile e raggiunge elevatissimi livelli di astrazione. Grazie al mitate, cioè alludere a qualcosa usandone un'altra, una roccia evoca una montagna o un animale, una distesa di sabbia rappresenta il mare. Ciò che vediamo quindi dipende prima di tutto da noi stessi, esattamente come nell'arte astratta moderna. È il famoso Kare Sansui, il giardino zen per antonomasia, in cui la mente viene spinta a liberarsi dal corpo per giungere ad una conoscenza profonda che vada oltre l'aspetto apparente delle cose. Nel giardino giapponese si trovano poi i portali shintoisti, simbolo del varcare la soglia della comprensione, i ponti, figura del passaggio verso l'illuminazione, la terrazza per ammirare la luna attraverso il suo riflesso sull'acqua, simbolo dell'impossibilità di vedere chiaramente la realtà. C'è poi il giardino da te, improntato all'estetica del wabi-sabi, che valorizza l'imperfezione naturale, l'impermanenza e la fugacità della bellezza. Si tratta di elementi di grande poeticità e raffinatezza, che hanno fatto dire all'architetto Tadao Ando che l'arte del giardino rappresenta l'apogeo delle arti figurative in Giappone.